Nessun sopralluogo né ispezione di iniziativa dei NAS ieri alla struttura modulare covid dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Le notizie rimbalzate online non sono da attribuire anche al nosocomio salernitano che è stato sì interessato da verifiche dei carabinieri del NAS ma nei mesi scorsi e non nelle ultime ore. Verifiche invece sulla regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del virus sono in corso negli ultimi giorni ed hanno prodotto dei risultati interessando come altri centri d'Italia anche la provincia di Salerno. Nell'ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria il comando carabinieri per la tutela della salute d'intesa con il ministero della salute ha svolto specifiche attività nell'ultima settimana ispezionando 285 aziende e laboratori di analisi privati e convenzionati ed altre strutture similari operanti nel commercio e nell'erogazione dei test di analisi molecolari antigeniche e serologiche finalizzate all'accertamento dell'eventuale positività al covid-19. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità sono impegnati con funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali covid di recente poco prima della classificazione come zona rossa della Campania hanno affiancato gli ispettori del ministero della salute in quattro ispezioni eseguite a Napoli, nell'ospedale del mare, al Cotugno, al Cardarelli e al Monaldi. Le ispezioni condotte su scala nazionale nelle aziende e nei laboratori di analisi hanno permesso di rilevare diverse irregolarità, in primis il mancato possesso autorizzativo circa lo svolgimento di attività di prelievi ebatici e biologici svolti abusivamente in ambienti non idonei. Per quanto riguarda l'omessa o ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche sugli utenti, il dato e il risultato è pari al 14% rispetto alle sanzioni rilevate. Tale osservazioni sono ritenute di particolare gravità per la perdita di informazioni utili alla corretta e tempestiva tracciatura di casi e conseguente diffusione incontrollata di situazioni di contagio. Nel corso delle verifiche i carabinieri dei Nassan hanno individuato l'attivazione abusiva di punti di prelievo ematici e biologici in aree improvvisate in assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Un ulteriore fenomeno rilevato è la vendita al dettaglio ai clienti presso farmacie e addirittura in erboristeria e profumeria di kit di analisi sierologiche destinati al solo uso professionale sanitario e non adatti all'autodiagnosi. Proprio in tale contesto sono stati sequestrati 153 tra kit di diagnosi e dispositivi medici irregolarmente detenuti per la vendita al dettaglio o per l'effettuazione di analisi.